la mia missione è quella di distruggere lo youtuber odisseo se amico che bella giornata e che sta facendo lì davanti vai via 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 spostati amico toglie di mezzo che ti prendi raffario sei fuori testa che fai in mezzo alla strada scendi dalla macchina e dammi due vestiti subito raffario pensi che siano stupido cos'è questo suono raffario sei normale che è successo che stai facendo adesso che succede cosa c'è che non va che succede dammi i tuoi vestiti o io ti uccido va bene prendili prendili lasciami andare te li darò lasciami andare lasciami in pace prendi io tornerò sappilo fai il pieno di benzina almeno più tardi fai il pieno capito raffario non so oggi è stato molto strano cos'è successo carta forbici piatta eh si è tutto cosa indiamola hai perso e adesso io do lo schiaffo dai colpisci mi dai dai uno due sei pazzo vado in bagno lasciami in pace qui vive odisseo oh oh ho con successo raffario stai bene sono venuto per distruggerti cosa raffario cosa vuoi dire questo è l'ultimo giorno della tua vita raffario pensi che si crede è un bel scherzo è arrivata l'ora di ucciderti che succede lì ti salverò io adisseo papà ah 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 Corri di seo! Corri! Devo continuare la mia missione! Dove posso nascondermi? Vado là! Devo nascondermi in fretta! Prima che arrivi il raffare coattivo! Credo di me se mi riesco super bene qui! Sono sicuro che dove mi troverà! Spero che Odisseo sia qui da qualche parte e che io sia venuto al posto giusto! Sotto c'è qualcuno da parte a porta! Spero che non sia un buon raffare! Odisseo! 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 Odimone eccomi! Vieni, vieni qui! Odisseo! Sei nel parco giochi! Arriva, vieni! Sì, sì, vai! Odisseo, ti ho trovato! Ma come facevi a sapere che sarei stato qui? Come pensi che lo sappia? È il tuo posto preferito dopo casa, dopo tutto! Ok, Timone, ma spiegami cosa sto giudendo a raffario! Da quello che ho capito io, non è il vero raffario, ma è uno dei cloni robotici di raffario! Come fai a saperlo, Timone? Perché mi sta cercando? Cosa gli ho fatto? Ho letto che alcune persone cattive stanno creando dei robot youtuber cloni per distruggere i migliori youtuber del mondo! Tu, Odisseo, sei il primo youtuber della lista! E tutto questo lo stanno facendo per rendere infelici tutti i bambini del mondo! Oh, davvero? E questo è perché lo intratteniamo e siamo già ai bambini? Sì, è vero, Odisseo, ma dobbiamo fermare il robot in qualche modo! Sì, Timone, sei molto intelligente! Ma ora cosa ci riesci di fare? Come ho notato, Odisseo, il robot non sente dolore! Quindi la via d'uscita deve essere un'altra! Penso che possiamo trovarla su internet, ma dobbiamo tornare a casa! Sì, Timone, hai ragione! Timone, hai sentito? Sì, ho sentito, Odisseo! Odisseo, dobbiamo assolutamente sfuggire al robot! Chiudilo qui dentro! Corriamo a casa e troviamo la soluzione! Sì, vedevi a farlo, scappiamo! Oh, guarda, sta arrivando il robot Raffario! Sì, sì! Robot Raffario! Newb, vieni qui! Tredici! Opa! Scendi giù, forza! Se vuoi prenderci, vieni qui su da noi, dai! Dai! Loser! Loser! Perdete! Odisseo, hai visto? Te l'avevo detto che avrebbe avuto difficoltà ad entrare! Oh, Timone, ho avuto in mente un'altra idea! Quando comincerà a salire? Seguimi! Vieni! Vieni, vieni, Disseo! Ammetti che il robot non è adatto al parco giochino! Vieni così, goffo! Odisseo, si sta avvicinando! Cosa facciamo adesso? Dai, seguimi! Ok, ok! Timone, il mio piano è questo! Scendiamo da qui e il robot si bloccherà sicuramente! Sì, e così saremo i primi a tornare a casa e a trovare una soluzione! Vado io per primo! Forza, andiamo! Dai, Timone, scendi in fretta prima che ti prenda! Odisseo, ho paura di scendere! Che scelta hai? Scendere o essere cadratto da un robot! Ok, Odisseo, vado giù, vado giù! Dai, su, Timone, ma perché sei così lento? Ok, ok, sto scendendo! Oh, mio Dio, che bella acqua che è qua il Timone! Odisseo, ce l'ho fatto! Vado da te! Dai, su, presto, presto! Forza, su, dai, su! Andiamo! Mi sembra che lui ci stia seguendo! Ripara sicuramente, bloccatelo! Vai, Timone, entro qui subito! Sì, andiamo, andiamo! Andiamo di sopra! Ma, Timone, cosa facciamo adesso? Ok, andiamo di sopra e cerchiamo soluzioni su internet! Bene, cosa stiamo aspettando? Andiamo! Spendiamoci! Ok, così! Ok, sì! Guarda, Odisseo, ci sono robot che hanno un volto umano! Sì, e ora come lo fermiamo? Come ho letto qui, si dice che ogni robot ha un pulsante sulla schiena! E cosa fa questo pulsante? È un pulsante di spegnimento! Se lo premiamo il robot si spegne! Sì, ma come facciamo? È molto forte! Ci ucciderà sicuramente! Accidenti, fratello, hai ragione! Siamo proprio fregati! Oh, ho un'idea! Dimmi, che idee hai? Dunque, la prima e la più importante decisione è che non appena il robot entra in casa nostra inizia a salire le scale al piano di sopra, lancieremo dei palloni dall'alto! E non appena cade premiamo il pulsante, sì? Sì, Odisseo, ma se il primo piano va male ne ho un secondo! Il secondo? E cosa hai inventato? Il secondo piano? Che ne dici di entrare nella vasca? Aspettare che il robot ti trovi e, una volta dentro, diversi dell'acqua addosso! E così sviene! Sì, fantastico! Credo che sia arrivato! Esatto, Odisseo, è arrivato! Andiamo a prepararci! Andiamo, andiamo! Forza e forza, lancia! Forza e forza, lancia! Forza e forza, forza! Oh, Odisseo, pieno numero due! Entrai nella vasca, presto! Oh, 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 oh! Adesso Giulio la verso addosso e così sviene! Oh, 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 oh! Odisseo, bagnalo! Dai, su, ciao! Oh, oh! Timon, brevi, è passato il freddo mentre è disarmato! Sì, Odisseo, sto arrivando! Eh, eh! Sì, 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 dai, dai, dai! Oh, oh! Sì, Odisseo, ce l'abbiamo fatta! Gesteremo quel robot nella spazzatura! Bravo, Timon! Ottimo lavoro! Ecco, amici, siamo i migliori youtubers! Quindi iscrivetevi tutti per vedere tutti i nostri video! Cliccate sulla campanella e ci vediamo!